Allora, primo esperimento con la farina caputo russa, eccola qua, già setacciata, ecco qua già in fase di crema, ho messo già il sale, volevo farvi notare la meraviglia di questa farina, ecco la cosa, un po' di delicatezza dei texti che è, adesso io ho solo due mani, utilizzo il cellulare, posso farcela prima, e non avrò, il sbattitore, il sbattitore, lo sapete vedere? Mi supero la fase odiosa, veramente afficcicosa, nella farina densa, nella pastella, guardate, l'ultima è come si avvolge, guardate, che ritornano le feste, guardate, l'ultima è come si avvolge, guardate, che ritornano le feste, facciamo riparare, quindi mettendo, andiamo a far arrivare, che come sale lì, questo, è abbastanza impressionante la differenza di comportamento, rispetto a quello che vive, il suo, 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 il suo Non c'è sempre il filo, non è giusto. Non c'è il filo, non c'è il filo, non c'è il filo, non c'è il filo. Non c'è il filo, non c'è il filo, non c'è il filo.